Quindi, sull'attitudine e longitudine, quindi le coordinate geografiche, un aspetto fondamentale è quello di andare a capire che c'è un riferimento che è puramente convenzionale. Un altro tipo di ragionamento che ci permette di capire qual è il livello della scala è se ha senso andare a dire che una certa latitudine e longitudine è il doppio di un'altra. È un'operazione che ci serve o no? Il fatto di dire che, non so, la latitudine di Torino è 45 nord. Il fatto che sia la metà di 90, che poi è il polo, ha qualche significato? Probabilmente no. Cioè, noi interessa sapere la differenza tra le latitudini in modo da capire qual è lo scostamento. Oppure possiamo dire che in termini di posizione Torino è a nord rispetto a chi sta a 40 gradi quanto chi sta a 50 gradi lo è rispetto a Torino. I fusi orari sono sostanzialmente legati esattamente al meridiano fondamentale perché ovviamente spostandosi, avendo la rotazione legata alle coordinate la causa o comunque il meccanismo è esattamente lo stesso. Quindi i fusi orari sono esattamente legati allo stesso meccanismo e partono ovviamente dallo stesso tipo di meridiano. Quindi il concetto è lo stesso. Ricoverati con sintomi, tre. Quindi, ricoverati. Assoluto. Ok, su questo direi che siamo d'accordo. Ok? È una variabile tipo assoluto perché è un numero. Andiamo a contare le persone che entrano o escono dall'ospedale e quindi non c'è un'altra misura. Tenete presente che io posso andare a utilizzare migliaia, milioni o altri suffissi ma è semplicemente un modo di andare a rappresentare esattamente lo stesso numero semplicemente in maniera abbreviata. Quindi, conto e basta. Il che vuol dire che su quei dati posso fare qualunque operazione. Domanda sulla chat. L'attitudine e longitudine sono ovviamente di scala di tipo intervallo perché abbiamo un riferimento che è convenzionale. Tutti gli altri numeri che abbiamo sotto, quindi ricoverati, terapia intensiva, ospedalizzati, isolamento domiciliare, positivi, nuovi positivi, dimessi, deceduti, totale casi, totale tamponi, sono tutti misurati esattamente su una scala assoluta perché sono dei conteggi puri e semplici. Ok? Quindi, mentre io posso andare a fare un'operazione di... diciamo, media o operazioni complicate su questi, non posso ad esempio andare a fare la media sul codice della regione. Non avrebbe assolutamente senso. Ok? Quindi, questo è un esempio di esercizio che dovreste riuscire man mano a fare ogni volta che vedete a disposizione un set di dati per capire quali sono le caratteristiche intrinseche di quella misura. Tutte queste sono misure che noi abbiamo a disposizione. Tra un po', tra qualche video lezione, parleremo di qualità dei dati per cui andremo a capire dato un insieme di informazioni di misure come possiamo andare a valutare la qualità e quali sono, ovviamente, i limiti di un insieme di dati. Ma avremo la lezione a breve. Ok? Quindi, mi piaceva segnalarvi questo sito perché contiene dei dati aggiornati e sostanzialmente legati all'attualità che stiamo vivendo tutti in cui potete trovare i dati di prima mano ufficiali della protezione civile. Su questo, volendo, possiamo poi provare a fare degli esercizi di visualizzazione man mano che andiamo avanti e vediamo alcuni strumenti che possiamo utilizzare per fare queste operazioni. A questo punto vorrei condividere con voi le altre slide che sono quelle sulla percezione se riesco a farle vedere correttamente Ok Allora, abbiamo parlato della pipeline di visualizzazione quindi vi riepilogo allora, scusate rispondo alle domande Vi metterò il link sul sito e sulla pagina Slack quindi sul canale Slack anzi, ve lo metto subito dati protezione civile Ok ve l'ho messo immediatamente il link L'analisi dei grafici allora la faremo perché è uno degli aspetti fondamentali che vogliamo fare in questo corso quindi essere in grado dato un grafico di analizzarlo di capire quali sono gli aspetti positivi e negativi e dove possa essere migliorato Se volete raccogliere questi grafici e metterli sulla sulla pagina sul workspace Slack allora in questo momento nel workspace Slack abbiamo general laboratori potete metterli sotto il canale random e poi magari in future lezioni ne prenderò qualcuno sul sole o su qualunque altro giornale e poi proviamo ad analizzarli quindi sicuramente appena abbiamo gli strumenti tutti gli strumenti per poter fare l'analisi faremo questa faremo questa operazione Riepilogo velocissimo di quanto detto nelle lezioni precedenti abbiamo parlato della pipeline di visualizzazione abbiamo visto che c'è un primo passaggio che è quello che punta alla visualizzazione di base quindi alla percezione immediata tipicamente tramite gli attributi preattenzionali quindi la codifica mi permette la percezione alcuni pattern un po' di altivello mi permetteranno il ragionamento e poi finalmente potrò arrivare a altri accorgimenti per poter andare a permettere quello che è la comprensione quindi per fornire un messaggio che sia completo e utile ai miei lettori e ai miei osservatori allora abbiamo visto l'esempio la volta scorsa già la volta scorsa avevo accennato alla percezione visuale quindi diciamo che saltiamo questo quindi il primo passo che noi dobbiamo andare a fare quando si tratta di visualizzazione è la codifica l'encoding e quindi scegliere come rappresentare gli strumenti noi lo facciamo andando a scegliere una particolare tipo di oggetto visuale e un suo attributo quali sono gli attributi sono gli attributi preattenzionali cioè quelli che noi siamo in grado di percepire priva ancora di prestare attenzione quindi in maniera quasi inconscia e sono quelli che noi acquisiamo facilmente perché utilizziamo questi attributi perché vuol dire che sostanzialmente il nostro sforzo cognitivo nell'andare a leggere questo e andare a osservare è minimale perché quell'operazione lì la facciamo tranquillamente senza neanche pensarci quindi più sfruttiamo questi aspetti di base tanto più la visualizzazione è priva di fatica e immediata è ovvio che io posso fare le cose complicate a piacere però a questo punto il vantaggio di avere una visualizzazione grafica sostanzialmente cala la visualizzazione grafica è utile perché mi permette di mettere tante informazioni immediatamente percepibili facilmente ricordabili e soprattutto di dare un contesto ecco se la visualizzazione non è immediata cessa un po' lo scopo complessivo della visualizzazione in generale abbiamo visto che ci sono due tipologie di dati che noi possiamo andare a visualizzare quelli quantitativi che sostanzialmente corrispondono alle scale da intervallo in avanti e quelle categoriche che sostanzialmente sono le scale nominali e ordinali per cui capite che identificare bene il tipo di scala è importantissimo perché poi ho una guida su come andare a rappresentare questi valori queste misure utilizzando gli attributi abbiamo una serie di attributi vi salto le leggi ci torniamo poi dopo quindi abbiamo l'orientamento la lunghezza lo spessore la dimensione la forma la curvatura l'aggiunta di segni e quello che è l'enclosure per quanto riguarda l'angolo l'orientamento oppure anche la pendenza che sono tutti legati allo stesso aspetto riesco facilmente a codificare una variabile che sia ordinale per cui mi riesce abbastanza facile capire se uno è più grande dell'altro anche se soprattutto quando gli orientamenti sono diversi come in questo caso è difficile soprattutto se gli angoli sono molto simili andare a discriminare chi è più grande e chi è più piccolo se hanno un lato in comune i due angoli è relativamente facile in casi come questi non è immediato capire chi è più grande e chi è più piccolo per cui vanno bene ma non tanto soprattutto hanno dei limiti in termini di percezione di capacità di confronto se il confronto già è difficile immaginatevi quanto possa essere la valutazione delle dimensioni la forma è un qualcosa di immediato però ovviamente la forma in sé permette esclusivamente di distinguere un tipo di forma dall'altro quindi non mi dà nessuna informazione sull'ordine figuriamoci su aspetti quantitativi di alto livello la lunghezza invece è un qualcosa che io riesco a quantificare bene in termini di numeri quindi riesco a dire che questo è il doppio di questo in maniera facile e senza particolare sforzo riesco a metterli in ordine che è l'aspetto fondamentale e in più riesco a fare una valutazione quantitativa quindi sia il confronto che la valutazione ricordiamoci degli aspetti di contesto per cui è problematico se ci sono altri segni in giro eventualmente fare un confronto adeguato per quanto riguarda la curvatura non ho una capacità di valutare quanto questo sia più curvo dell'altro sappiamo dire che è di più ma dire quanto è veramente difficile per cui la curvatura al più è in grado di rappresentarci delle misure di tipo ordinale stessa cosa per lo spessore se aggiungo dei simboli questo è un qualcosa che è difficile da andare a quantificare a meno che io vada a contare i simboli allora questo può essere un altro modo di codificare per quanto riguarda l'area avevamo fatto vi avevo fatto un sondaggio se andiamo a prendere i risultati del sondaggio che dovrebbero essere vediamo se riesco a recuperarli qua allora il sondaggio è sostanzialmente quello che vediamo qua abbiamo 1 a 16 1 a 20 1 a 12 e 1 a 10 direi che la maggioranza circa metà è andato sull'1 a 16 ci sono valori un po' più alti valori un po' più bassi in realtà il valore corretto in questo caso è 1 a 16 quindi direi che avete avuto un buon occhio in generale però non è così facile ed è estremamente difficile soprattutto se l'immagine la guardo velocemente io non so se voi avete fatto delle misure adeguate ma a occhio è difficile andare a stabilirlo per cui in generale il confronto tra aree non è qualcosa di banale e facile da fare in maniera immediata per cui l'area è un meccanismo di codifica che è meglio utilizzare con molta attenzione in termini quantitativi la posizione la posizione spaziale è un altro elemento preattenzionale che può essere sfruttato molto per cui abbiamo la posizione rispetto a una scala comune in cui riesco facilmente a capire chi sta più in alto chi sta più in basso un po' più complicato è se io ho delle scale che non sono allineate però in generale da diversi esperimenti la valutazione basata su scale quindi su posizioni rispetto alla scale è una delle più precise in termini di risultato di quanto io percepisco la distanza in generale può essere utile però mi dà dei problemi perché io tendenzialmente la percepisco come ortogonale alla tangente mentre invece in questo caso la distanza è questa che io misuro in verticale per cui posso avere una percezione completamente alterata perché vado ne misuro in termini di percezione una ma in realtà quella che è espressa è un'altra quindi in generale la distanza tra due linee è un qualcosa che è meglio non utilizzare direttamente come meccanismo di codifica in generale se a voi interessa la distanza invece di andare a mettere due linee e far fare il lavoro di calcolare la distanza a chi osserva il grafico è decisamente meglio andare a calcolare voi la distanza e andare a riportare quella che è la distanza perché ovviamente la percezione in questo modo è decisamente più immediata altrimenti il colore è l'altro attributo preattenzionali sono quelli del colore normalmente quando parliamo di colore si intende tre aspetti diversi tinta saturazione e intensità luminosità o valore quindi a tanti nomi dato uno spettro quello che si chiama di solito l'arcobaleno di colori in generale non esiste una interpretazione univoca di qual è l'ordine ora se voi li vedete così nell'ordine dell'arcobaleno rosso arancione fino al violetto potete immaginare che il verde venga dopo il rosso però se voi vedete dei valori delle aree colorate diversamente è assolutamente difficile andare a vedere il verde come qualcosa che sta sopra il rosso ma anche il giallo leggermente sotto l'azzurro eccetera quindi quando io ho dei colori riesco abbastanza facilmente a distinguerli se non sono tanti non ho sfumature molto sottili ma in generale non riesco a metterli in ordine quindi non è facile capire chi viene prima chi viene dopo l'unico modo di farlo è di avere una leggenda separata ho risposto un'oretta fa circa su Slack a una domanda di uno di voi cercando di dare qualche informazione in più per cui in generale la raccomandazione è che se io devo andare a rappresentare un valore quantitativo quindi con scale da intervallo in su l'uso di uno spettro di colori tendenzialmente è una scelta sbagliata è decisamente meglio utilizzare gli altri due aspetti che riguardano il colore ovvero la saturazione e l'intensità la saturazione ci dà già un cenno di quello che potrebbe essere un ordine però da un punto di vista percettivo è difficile andare a percepirla correttamente per cui solitamente la scelta migliore è quella che è l'intensità luminosa in questa barra che io vi ho rappresentato qua il colore di base che ho utilizzato sostanzialmente è il bianco però io posso andare a giocare su intensità luminosa di qualunque colore in alcuni casi io posso andare a giocare su due aspetti contemporaneamente quindi andare a unire sia l'intensità del colore che la luminosità ed è l'esempio di questa palette questo insieme di colori divergente per cui se io devo andare a rappresentare valori che possono essere positivi negativi in questo caso ho cinque valori immaginate la solita domanda sulla scala di tipo Likert cioè dato uno statement chi deve rispondere deve andare a dire se è assolutamente d'accordo o assolutamente contrario oppure una via di mezzo oppure neutro rispetto all'affermazione se voglio andare a rappresentare questi cinque livelli li posso rappresentare ad esempio andando a considerare il rosso come assolutamente negativo il blu come positivo e un colore intermedio come una posizione neutra a questo punto come che identifico le posizioni che sono non completamente d'accordo ma parzialmente d'accordo andrò a utilizzare un colore che ha sostanzialmente la stessa tinta del completamente d'accordo ma è meno saturo quindi il colore è sostanzialmente meno brillante e ha una luminosità più alta stesso discorso lo faccio di qua quindi la tinta sostanzialmente è la stessa ma qui ho un colore che è meno saturo e più luminoso quindi normalmente quello che viene fatto è di andare a utilizzare colori scuri e saturi a un estremo della gamma e colori chiari e meno saturi dall'altro questo tipo di codifica permette di andare a percepire in maniera adeguata l'ordine quindi mi è chiaro chi viene prima chi viene dopo è molto difficile è praticamente impossibile senza una leggenda quindi senza dover fare un passaggio di interpretazione successivo andare a dire che questo blu è due volte tre volte dieci volte rispetto a questo azzurro non c'è nessuno che possa dirlo in maniera ovvia avete bisogno di una leggenda e in quel caso la vostra interpretazione è tutt'altro che immediata perché vi tocca andare avanti indietro in maniera alternata tra il grafico e la leggenda per cercare di leggere i valori e interpretarli ok quindi quel tipo di codifica non è l'ideale altro aspetto a cui fare attenzione è la cicità al colore normalmente a livello mondiale abbiamo un 2-3% di persone che soffrono di qualche forma di cicità al colore per cui in realtà l'esempio che vediamo qua è un esempio che sostanzialmente non riesce non è visualizzato da chi ha una cicità di tipo rosso verde che è probabilmente quella più comune però esistono anche altri tipi di cicità al colore più o meno intense che mettono che confondono colori diversi e quindi è opportuno fare attenzione quando andrà a scegliere dei colori facendo in modo che siano chiaramente distinguibili per cui andare a mettere semplicemente rosso e verde è controproducente il risultato è che chi ha quel tipo di cicità al colore non riesce a distinguerli per cui se volete per forza mettere rosso e verde perché vi piacciono quello che dovreste fare è quanto meno andare a utilizzare due livelli di luminosità abbastanza diversi eventualmente anche due livelli di saturazione diversi in questo modo chi non percepisce la differenza di tinta comunque riesce a percepire una differenza di luminosità e quindi riesce effettivamente a distinguere i colori ricordatevi che per fare le operazioni base di ragionamento visuale io devo innanzitutto andare a discriminare se non riesco a vedere la differenza di colori non riesco a discriminare dopodiché riesco a fare tutte le altre operazioni la visualizzazione quantitativa sostanzialmente parte da attributi che permettono una percezione la migliore possibile usando la posizione rispetto a un asse scendendo su lunghezze pendenze e infine l'area l'area è un qualcosa che può essere utilizzato ma ha grossi limiti in termini di accuratezza della percezione per quanto riguarda gli aspetti di codifica di attributi categorici alcuni permettono di andare a codificare abbastanza bene misure di tipo ordinale quindi la posizione ad esempio quindi sono più in alto più in basso più a sinistra più a destra la dimensione intensità e saturazione come due caratteristiche del colore la tinta abbiamo detto che non ha una capacità di trasmettere un ordine intrinseco la forma il tipo di riempimento e lo stile di una linea quindi tratteggiato puntinato eccetera poi è ovvio che io posso anche pensare ad utilizzare la forma di un qualche elemento per andare a codificare dei valori che siano quantitativi però il punto è che questa codifica non è immediata quindi devo mettere una leggenda e devo andare in questo modo a complicare l'operazione di percezione di chi osserva il grafico abbiamo abbiamo poi parlato velocemente nell'ultima lezione di quelli che sono i principi di Gestalt ovvero quelli che mi permettono di andare a percepire gli elementi come facenti parte di un unico gruppo oppure separati abbiamo il principio di similarità quindi elementi simili per colore per qualunque degli altri attributi sono percepiti legati di prossimità quindi gli elementi vicini sono percepiti assieme quelli separati sono percepiti come distanziati piccola osservazione il principio di prossimità è un qualcosa che noi possiamo utilizzare non soltanto nei grafici ma in qualunque tipo di visualizzazione quando voi andate a scrivere del testo in un documento in una slide dove volete anche nei vostri appunti che prendete a mano per andare a permettere a più elementi di essere considerati quindi più frasi ad esempio di essere considerate legate l'una all'altra perché magari fanno riferimento allo stesso aspetto che state descrivendo di solito le mettete vicine se invece volete avere due gruppi di parole che invece rappresentano o sono legate a due concetti separati normalmente quello che dovreste fare è cercare di distanziarli e più sono distanziate più vengono percepite come due blocchi separati che quindi riguardano due aspetti diversi quindi l'idea della prossimità è un qualcosa che noi possiamo utilizzare dovunque non solo nella visualizzazione grafica abbiamo poi la connessione quindi gli elementi collegati vengono percepiti assieme l'enclosure che può essere fatta sia con una linea che con un'area piena quindi sostanzialmente lo sfondo la closure è la continuità che ci fa percepire come facenti parte dello stesso gruppo gli elementi che seguono in una linea salto i dettagli e vado a un breve esempio che è l'ultimo che avevo mostrato nella lezione in cui vado a utilizzare vari elementi tra i principi gestalt per andare a mettere assieme i valori qui abbiamo due serie di dati rombi viola e quadrati arancioni in cui ho la similarità sia in forma che in colore che mi permettono di percepirli assieme nel momento in cui vado ad aggiungere la connessione la percezione di due serie separate è ancora più forte un altro aspetto che posso utilizzare è la prossimità in questo caso ho utilizzato la prossimità oltre alla similarità per andare a etichettare queste due serie quindi questa soluzione rispetto a questa in cui ho una leggenda separata tendenzialmente è più leggibile e soprattutto mi evita di andare avanti e indietro tra la serie di dati e la leggenda per capire di cosa stiamo parlando qualche altro esempio infine interferenza tra gli attributi in generale devo stare attento perché ci sono attributi che possono essere utilizzati in maniera non coordinata tra di loro ma magari per andare a rappresentare due aspetti diversi e quindi posso avere una certa interferenza l'ideale è utilizzare gli attributi come nell'esempio che vediamo qui al centro in maniera coordinata in questo caso sia forma che colore che lavorano assieme l'esempio del grafico di prima dovevamo rom b viola e quadrati arancioni quello è un modo di utilizzare in maniera combinata due aspetti due caratteristiche diverse per andare a rafforzare il messaggio andare a far percepire in maniera più forte la distinzione tra due elementi tra due gruppi di elementi in generale se andate a confrontare i due esempi che trovate qui in basso nell'esempio di sinistra abbiamo due gruppi che sono divisi esclusivamente in base al colore e qui in basso a destra due gruppi che sono sostanzialmente suddivisi in base alla forma se osservate i due non ho fatto il sondaggio ma potremmo farlo al volo tendenzialmente questa che usa i colori ci dà una percezione più immediata di separazione rispetto a questa qua che invece usa semplicemente le forme questo perché perché tendenzialmente il colore è tra gli attributi visuali quello più potente in termini di distinzione abbiamo parlato di altri aspetti di enfasi il prossimo argomento quindi la prossima video lezione che faremo riguarderà l'integrità grafica ovvero i principi che ci permettono di andare a capire se un grafico è stato costruito in maniera corretta quindi tutti i principi vengono rispettati vengono utilizzati nel modo migliore oppure ci sono dei limiti questo quindi i principi di integrità grafica che vi spiegherò nella prossima lezione registrata sono poi lo strumento di base che possiamo utilizzare per andare a fare l'analisi dei grafici domande su questa parte chiarimenti allora domanda per quanto riguarda le convenzioni le convenzioni culturali che forse erano eccole qua se dobbiamo fare un grafico per un pubblico arabo dobbiamo andare da destra verso sinistra o dal dal basso verso l'alto allora non lo so nel senso che non sono un esperto di altre culture e quindi non vi so dire quanto diciamo le popolazioni di lingua araba ad esempio siano abituate a vedere grafici credo che sia così ma non è una mia intuizione non ve lo posso confermare grafici in cui il tempo scorre da sinistra verso destra però ad esempio non so quanti di voi abbiano una passione per i manga giapponesi se uno non ha mai sfogliato un manga originale giapponese la prima cosa che fa è apre l'ultima pagina perché siamo abituati a sfogliarli almeno noi che abbiamo una cultura occidentale in un certo ordine invece si parte al contrario quindi anche andare a mettere gli elementi in un altro ordine potrebbe cambiare sicuramente se dobbiamo andare a fare grafici per persone di una cultura diversa dobbiamo fare attenzione e magari chiedere a qualcuno che sia esperto per capire se è leggibile o meno altra domanda allora sulla slide 59 la palette di colori immagino che fosse capito qual era queste allora il caldo e il freddo dipende allora una cosa che molto spesso si fa in termini di diciamo di colori è andare a dare il il positivo al verde e il negativo al rosso stile semaforo il problema è che il verde e il rosso di solito assieme per i problemi di licicità al colore tendenzialmente è meglio non metterli in realtà qui io potrei girare la mia palette in un senso o nell'altro quindi che cosa significhi il rosso e cosa significhi il blu è puramente convenzionale tenete conto che ho utilizzato rosso e blu potrei utilizzare che so verde e viola o qualunque altra coppia di colori che mi garantisca di avere una buona percezione anche di problemi di licicità al colore dipende da che cosa volete fare quindi l'ordine quindi scambiare il blu e il rosso può andare benissimo in realtà non c'è una semantica così chiara e univoca siete voi che comunque dovete andare a etichettare questi colori dicendo che questo è completamente contrario e completamente d'accordo oppure viceversa allora il sondaggio allora allora a me hanno detto rispondo alla domanda il link per il sondaggio che ho presentato all'inizio ci ritorno comunque prima di chiudere la lezione mi hanno detto che dovreste trovarlo sul vostro portale fatemi sapere se avete problemi io eventualmente chiedo ulteriori chiarimenti la domanda è di continuità e connessione andiamo avanti allora la continuità in realtà io ho queste due righe arancione e viola le ho disegnate io per indicarvi quello che noi tendenzialmente percepiamo nella slide forse questa qua iniziale ecco qui non c'è nulla voi non percepite questa serie di punti continua quest'altra e questa continua quest'altra tendenzialmente sì quindi seguiamo sostanzialmente queste due linee ma quelle due linee lì non ci sono quindi nessuno ci dice che in realtà questi punti e questi altri sopra siano un gruppo e questi sotto siano un gruppo diverso la connessione io ce l'ho se invece di andare a dare un senso di continuità su una linea immaginaria effettivamente collego con gli elementi quindi nel momento in cui li collego effettivamente sto utilizzando la continuità se invece mi affido una linea immaginaria di continuità o di derivata prima più continua lì sto usando il principio di continuità e non quello di connessione allora domanda per l'interferenza sugli attributi dovendo rappresentare due gruppi ciascuno da due sottogruppi quindi sostanzialmente quattro gruppi diversi è possibile utilizzare due forme due colori diversi ragionevolmente sì nel senso che la forma e il colore sono i due più facilmente utilizzabili per cui tendenzialmente li posso utilizzare in realtà normalmente la raccomandazione è di non superare i quattro gruppi diversi all'interno di una stessa visualizzazione perché anche se vengono utilizzati correttamente oltre ai quattro è difficile andarli a percepire quindi devo fare uno sforzo aggiuntivo e quindi la percezione è sostanzialmente meno immediata per andare a distinguerli quindi due gruppi due colori vuol dire sostanzialmente quattro gruppi in totale posso utilizzare due forme e due colori ciascuno quindi andare a differenziare sostanzialmente in questo modo è un modo abbastanza utilizzato e ragionevole sicuramente esercizi in cui andare a identificare i tipi di scale vi posso dare un po' di un po' di esempi di variabili prese magari da altri set di dati come esercizio diciamo a casa e poi o vediamo la soluzione assieme oppure bella pubblico successivamente trovo un set di dati e vi vi do questo tipo di esercizio allora a questo punto tornerei ai lucidi che abbiamo visto all'inizio sull'esperimento di creatività quello che dovete fare è compilare un questionario dovete trovare il link all'interno del vostro portale se avete difficoltà fatemelo sapere che io cerco di avere purtroppo io non riesco a vedere quello che avete voi sul vostro portale quindi posso chiedere a chi vi ha messo il link di darmi qualche indicazione in più eventualmente se qualcuno lo trovo o ha indicazioni lo scriva direttamente sul canale generale di Slack così è un aiuto a tutti dovete in questo caso aiutarvi più tra di voi perché io ho una visione diversa del portale quindi non sono in grado di aiutarvi direttamente ok avete un link sulla guida del corso ma non manda al questionario chiedo chiarimenti e vi faccio sapere appena posso allora l'altro aspetto che vi propongo in ottica di creatività a parte il momento di creatività sfrenata che se vi è piaciuto poi magari ditemelo su chat o in altro modo possiamo rifarlo come momento diciamo di distensione o all'inizio o alla fine della lezione quello che vi propongo di fare è di tenere quello che si chiama un giornale di riflessione che cos'è è sostanzialmente un quaderno personale di riflessione sulle lezioni che vengono svolte ed è un meccanismo che può essere utilizzato per andare a consolidare meglio il materiale che e le conoscenze che sono state acquisite nelle varie lezioni ed è un'opportunità per valutare in maniera indipendente le vostre emozioni le vostre conoscenze in modo di reagire alle lezioni lo potete fare per le lezioni in diciamo così dal vivo in diretta ma eventualmente anche dopo aver guardato una lezione videoregistrata in precedenza quella è una scelta ok negli avvisi generali c'è sia il sito che lì di per partecipare ottimo grazie ecco questo è un esempio di collaborazione diciamo così in parte creativa ma è uno degli aspetti di lavoro in comune grazie del suggerimento che dovrebbe aver risolto spero il problema per tutti che cosa scrivere potete scrivere nel nel vostro giornale tendenzialmente vi invito a farlo alla fine della lezione o alla fine della visione di una lezione a distanza le domande a cui potete rispondere quindi potrebbero essere titoletti di ogni pagina del vostro diario sono allora che cosa voglio ricordare di questo modulo quindi quali sono gli aspetti che secondo voi sono importanti ed è importante ricordare quindi un modo di andare a fare una sintesi di di quelle cose che ritenete importanti attenzione è una cosa fatta immediatamente quindi tendenzialmente non dovreste andare a modificalo è quello che voi ritenete importante in quel momento che cosa è stato più chiaro che cosa vi ha resi più sicuri rispetto a qualche argomento del corso magari più avanti soprattutto quando faremo degli aspetti più pratici è utile andare a percepire un senso di sicurezza soprattutto andare a utilizzare degli strumenti trovo difficile quindi che cosa è trovato difficile comprendere oppure fare se avete degli strumenti voglio lavorare su quindi che cosa vorreste andare ad approfondire o su cosa vorreste andare a fare degli esercizi ulteriori mi sembra insolito quindi c'è qualcosa che magari vi ha colpito e vorrei sapere e quindi un aspetto in più che vorreste sapere è ovvio che se c'è qualcosa che volete sapere oltre a scriverlo nel vostro diario scrivetelo probabilmente anche a me o sulla chat in modo che ci sia la mia possibilità di darvi un feedback se volete fare esercizi in più o altri aspetti che volete approfondire in cui vi posso dare una mano di nuovo chiedetemelo l'esempio di prima in chat era di qualche esercizio in più sull'identificare il tipo di scala ecco su quello vi posso aiutare vi posso dare qualche esempio quindi l'idea scusate è quella di andare a focalizzare meglio quello che avete appreso cercando di scrivere qualcosa lo scrivere fisicamente oppure anche in maniera diciamo al calcolatore però probabilmente con la penna è anche meglio può aiutare fissare meglio le idee e permettere quindi quello che è un apprendimento migliore e più efficace a questo punto io quello che posso fare è sostanzialmente darvi il link cioè mettervi il diario a disposizione ve lo metto sul su Slack e dopodiché ve lo metto anche scusate ma non riesco a caricarlo non so come mai ok forse ci siamo ok vi ho messo un file word sul canale general di Slack e quindi potete utilizzarlo vi carico lo stesso file anche sul materiale del corso sul portale della didattica così ce l'avete a disposizione anche in quel contesto quindi a questo punto io vi lascio qualche minuto per provare a scaricare il il file e iniziare a scrivere e se avete qualche domanda qualche osservazione ovviamente sono qui ancora per qualche minuto a disposizione di l'anima di l'anima di Allora, non a tutti appare, a qualcuno appare sotto avvisi recenti, quindi un avviso di carattere generale. Io provo a chiedere chiarimenti alla segreteria e vi faccio sapere eventualmente con un messaggio a tutti qualche informazione perché magari non è stato abilitato a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.